Riscoprire Torre Guaceto insieme ai segreti del suo mare. In occasione della Festa della Liberazione sono tante le iniziative organizzate nella riserva naturale. Diversi gli eventi organizzati dalla Cooperativa Talassia per conoscere Torre Guaceto, percorsi a piedi per grandi e bambini. Un tour in bici dagli ulivi al mare fino alla Crippida di San Biagio, un percorso in libertà dunque su due ruote. L'altra iniziativa è i segreti del mare, un percorso a piedi riservato a grandi e bambini alla scoperta di Torre Guaceto. Il 25 aprile dalle 9.30 alle 12.30 si svolgeranno delle attività gratuite con laboratori per bambini, ma anche l'apertura del Centro Recupero Tartarughe Marine. L'area marina protetta di Torre Guaceto ha un alto livello di biodiversità. Numerose sono le specie di pesci che la popolano, in alcuni casi anche di notevoli dimensioni. Numerose sono anche le specie vegetali presenti, la più importante è la Posidonia. La macchia mediterranea occupa una superficie complessiva pari a 45 ettari. Torre Guaceto è un oasis felice sia a terra che a mare.